Nuova tragedia in mare all'alba di domenica mattina, un'imbarcazione carica di migranti si è spezzata in due a largo delle coste calabresi, si temono oltre 100 morti, ma la situazione resta incerta poiché i soccorritori non conoscono con esattezza il numero delle persone a bordo del barcone, ciò che si conosce con certezza per ora il numero dei cadaveri recuperati. Si parla di almeno 59 morti, fino a questo momento si sa che 46 corpi sono stati rinvenuti sul posto, altri 3 sulla spiaggia di Portricello, Catanzaro, 8 a Castella, isola di Caporizzuto, 1 a Crotone. Le persone tratte in salvo fino ad ora sono 81, tra loro 22 in ospedale, 1 molto grave, le altre 59 sono nel locale centro accoglienza per richiedenti asilo. Le persone in viaggio erano partite da Iraq, Iran, Afghanistan e Siria. Stando quanto ricostruito da alcuni soccorritori, i superstiti sarebbero circa 180.